Il rovo, una pianta rigeneratrice del terreno, però è anche una pianta invasiva. C'è un detto contadino che dice lasciate un po' di spazio al rovo e ve lo ritroverete in camera. È una pianta incredibilmente infestante, ma il suo frutto è molto antiossidante. C'è anche una favola di esopo sulla volpe e il rovo. Oltre alla volpe l'uva c'è anche la volpe l'uva. C'è una volpe scappa e si rifugia in un rovo e poi non riesce più a muoversi perché viene attaccata dal rovo. Con tutte le spine che ha non riesce a liberarsi. Lui dice aiuto rovo, lasciami andare. Ma il rovo gli dice no, ti sei nascosto, hai sempre detto che io mi attacco a tutto, adesso tu ti sei attaccato a me e rimarrai qui. Cosa ci insegna questa favola? Ci insegna che alle volte si chiede aiuto alle persone sbagliate.